A Roseto di Labruzzi si torna a parlare con una certa vemenza del torneo Lido delle Rose, probabilmente il torneo di basket più antico d'Europa e risale dal 1945 e simbolo storico, culturale della città di Roseto. Assessore Lorena Mastrilli, l'amministrazione comunale ha deciso di fare questa delibera per la coprogettazione del torneo Lido delle Rose, possiamo dire una sorta di manifestazione di interesse per organizzare, per non far morire il torneo. Sì, assolutamente, come è stata dall'inizio questa scelta di collaborare, coprogettare i grossi eventi a Roseto insieme ad altre realtà del territorio molto attive, abbiamo lanciato, o meglio, fatto questa delibera per poi fare un avviso per la coprogettazione, perché comunque è nostra assoluta intenzione in virtù anche di una riqualificazione dell'Arena Quattropalme, riavviare questo torneo e ridargli lo splendore che ha avuto nel tempo, nella storia. Ecco, vi aspettate un tanto interesse per questo, per questo possiamo dire trofeo. Beh sì, Roseto, città dello sport, città del basket, è chiaro che ci aspettiamo assolutamente che ci sia una risposta da parte, insomma, degli appassionati e delle associazioni che notoriamente organizzano eventi.